Fin dalla notte dei tempi, nessun materiale è riuscito a incarnare il desiderio di perfezione e di bellezza degli esseri umani, come il marmo. Ma la bellezza del marmo viene con un prezzo molto alto. Per ottenerlo bisogna strapparlo dal monte con rischio e fatica. Il lavoro nella cava è una sfida contro la natura e le intemperie, contro la montagna e i suoi pericoli. È una lotta fatta di pareti da sbancare, clienti da soddisfare e commesse da consegnare. È una lotta continua, che in pochi sono preparati a combattere. Una lotta che richiede esperienza e grande passione. Una lotta contro il tempo, che non conosce pause, né d'estate né d'inverno. Una lotta che solo uomini di pietra sono in grado di affrontare. Una lotta che solo uomini di pietra sono in grado di pietra.